Dottor Giuliano Puletti, lei ha parlato di un passato che non vuole passare. Che cos'è questo passato che non vuole passare, perché non vuole passare e secondo lei che cosa bisognerebbe fare per farlo passare? Io credo che questo passato fondamentalmente sia incarnato dal fatto che ci sono persone che hanno fatto esperienze nella loro vita, hanno vissuto situazioni e momenti molto importanti e faticano ad immaginare che questo possa essere un momento della vita superato. E lo tengono in vita attraverso prodotti, riproducendo la 500 piuttosto che la mini, riascoltando le canzoni degli anni 80, tutte cose interessanti, ma che se vogliamo testimoniano, io credo, di una paura, di una difficoltà ad immaginarlo il futuro, di una poca voglia di fare i conti con ciò che di nuovo c'è. Quindi io credo che bisogna avere invece la voglia di provarci, la voglia di sperimentarsi, perché io penso che il futuro sia molto più interessante del passato. E quindi su questo piano avere dei giovani che si sperimentano, che pensano di costruire anche sul piano della propria professione e dell'impresa, qualche cosa che è fortemente in sintonia con i tempi, io credo che sia la cosa giusta. Per questo la forma cooperativa, dal mio punto di vista, corrisponde in maniera molto moderna a questa disponibilità a condividere, a stare in rete, perché se c'è paura del futuro, bisogna trovare uno strumento che aiuti a superare la paura. La cooperazione, il fare insieme, io credo che sia un buon antidoto alla paura. Lei ha descritto praticamente la nostalgia al potere, se non ho capito male. Secondo lei, mi sembra di capire che si può superare questo impasto solo con l'avvicendamento o forse anche con l'affiancamento delle vecchie e nuove generazioni. Cosa ne pensi? Ma sicuramente anche con l'affiancamento, anche perché le vecchie generazioni hanno fatto cose eccezionali, cose meravigliose. Quindi bisognerebbe solo che accettassero l'idea che possono farne ancora. Cioè la cosa che a me turba non sono tanto i giovani che questa volontà ce l'hanno perché hanno il loro futuro che è una benzina che li alimenta. Sono le persone più mature che hanno fatto nella loro vita cose molto importanti e a un certo punto pare che si arrendano. Pare che dicano noi quello che potevamo dare l'abbiamo dato e adesso viviamo nostalgicamente di quel passato. Queste persone invece hanno dentro ancora competenze, conoscenze, energie, voglia di fare, eccezionali. Bisogna riuscire a trovare un modo per mobilitarli. Probabilmente ad esempio il tutoraggio, il fare insieme, il tenere insieme giovani e meno giovani. Io credo che questa sia una ricetta importante quindi non solo per i giovani che hanno bisogno di recuperare anche dell'esperienza ma soprattutto per le persone che hanno costruito questo lungo e importante percorso e che magari oggi potrebbero vivere un'altra gioventù. Un'ultima domanda per una risposta breve. Si tende a idealizzare dei luoghi dove si fa innovazione, per esempio la Silicon Valley. Secondo lei in un paese come il nostro è possibile restare a casa propria e innovare? Assolutamente sì. Io penso peraltro che ci sono dei depositi di ricchezza, di competenze nel territorio, nelle aree più lontane. Oggi la tecnologia ci consente di stare nella nostra casa, nel nostro paese e usare le competenze, le conoscenze, le informazioni diffuse nel mondo. Questa è una grandiosa fortuna perché evita di sradicarsi, evita di fare cose che magari liberamente uno non farebbe. E quindi poter vivere nel proprio paese, in rapporto con i propri amici, i propri conoscenti e con ciò poter usare tutta la competenza, la potenza di calcolo di un grande calcolatore è una fortuna che oggi uno ha. Io credo che vada usata in questo senso, con lo strumento che ti consente di vivere meglio. Grazie. Grazie a voi. Grazie.